L'età fragile di Donatella di Pietrantonio vince il Premio Strega 2024. Il romanzo della scrittrice abruzzese, che ieri sera ha omaggiato la sua terra con un amorino al collo che non è passato inosservato, si era già aggiudicato alla sezione giovani della 78esima edizione del prestigioso Premio Letterario e ieri sera ha nuovamente trionfato sbaragliando la concorrenza degli altri cinque finalisti. Al sesto posto Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica, anticipato da Paolo Di Paolo con Romanzo Senza Umani, Raffaella Romagnolo con Aggiustare l'universo, Chiara Valerio al terzo posto con Chi dice e chi tace e Dario Voltolini con Invernale sul secondo gradino del podio. Dunque il Premio Strega anche quest'anno resta in Abruzzo, dopo la vittoria postuma nel 2023 dell'ortonese Ada D'Adamo con il romanzo Come Daria. E fu sempre un altro abruzzese, Ennio Flaiano, a vincere la prima edizione dello Strega nel 1947 con il romanzo Tempo di uccidere. La premiazione si è tenuta al Ninfeo di Villa Giulia a Roma nel corso di una cerimonia condotta da Geppi Cucciari e Pino Strabioli, come mostrano le immagini della diretta di Rai 3. Originaria di Arsita, Donatella di Pietrantonio, che non ha mai smesso di esercitare la professione di dentista pediatrica, che appenne aggiunge un altro prestigioso riconoscimento alla sua carriera letteraria, dopo aver vinto nel 2017 la 55esima edizione del Campiello con l'Arminuta, che si aggiudicò anche il Premio Strega Giovani. La vittoria del Premio Strega di Donatella di Pietrantonio, componente della giuria tecnica del Premio Flaiano di Narrativa, è stata accolta con immensa gioia anche dai Premi Internazionali Flaiano, che soltanto qualche giorno fa avevano riunito sul palco della sezione narrativa l'una accanto all'altro Donatella di Pietrantonio e Dario Voltolini, finalista al Flaiano e poi classificato secondo allo Strega, per parlare dei loro libri e delle loro storie straordinariamente umane, come ha ricordato Carla Tiboni, presidente dei Premi Internazionali Flaiano. Con l'età fragile, pubblicato da Inaudi, la scrittrice abruzzese prende spunto dall'omicidio del Morrone, compiuto nell'agosto del 1997, per affrontare il tema della sopravvivenza emotiva a un dramma interiore mai sopito. Proprio alle donne e al loro spirito di resilienza, Donatella di Pietrantonio dedica la sua vittoria, promettendo di usare la propria voce, scritta e orale, per difendere diritti che oggi non sono più così scontati.